3 ottobre 2012 mi trovo a Verona in via Turbina, questa è la strumentazione per la prova penetrometrica dinamica che sto facendo e questa è la posizione, ci troviamo nell'alta pianura veronese, alle spalle abbiamo l'argine del canale Bifis il terreno è caratterizzato da un'alternanza, da una successione anzi di terreno ricco di sostanza organica per il primo metro e la sottostante ghiaia, ghiaia con ciotoli e calcarei arrotondati in matrice sabbiosa tipica dell'alta pianura veronese grazie